So che ce la puoi fare, Billy. Grazie, Chloe. E adesso che me l'hai detto, non è cambiato niente. Ma sei ovunque. Coraggio, Billy. Io ti terrò la mano. D'accordo, sorellina. Lo faccio solo per te. Visto, non fa tanto male. A quanto pare sono guarito. Sono stato io a fare l'uovo? Ci deve essere qualcosa di utile in mezzo a tutta la roba che hai ordinato. Distruzione totale. Fra 20 secondi. Lascia stare, Phoebe. È andata. Game over. Fine della storia. Caput. Si parli un titolo di coda. È finita. Non è finita finché io non dico che è finita. A uno di istruzione fra 5, 4, 3, 2, 1. Adesso è finita. Max non è riuscito a prendere i tuoi poteri. Perciò lo farò io. Mamma dice che sono un bravo bambino. Chloe, hai usato la super forza di papà per salvarci. Grazie. Figurati. Thunder Baby, a casa! Aspetta. Non posso lasciare che tu la colpisca. Perché? Perché vorrei essere io a farlo. Aspetta. Cosa? Nora, che stai facendo? È stata Chloe a metterci in questo pasticcio. E ora voglio darle una lezione. Sorilluna, spalma dolce su sorellina. È cattivo e carino, proprio come me. E facciamolo. Bene, piccola. Adesso preparati. Questo momento lo ricorderai per tutta la vita. E... Azione. Posso avere del profiterol? Tutto quello che vuoi, zerbino. Ma non era questo la cosa? Se non posso andare al colloquio, basterà rimpiazzarmi con qualcuno che sappia tutto di me. E chi potrebbe fare la tua sostituta? Ehi, sono Phoebe Thunder, me ne ho un fratello gemello. Nessuno potrà mai credere che lei sia tu. Ciao, Phoebe. Visto? Grande! Scommestamenta! Ho scordato il nostro impegno, ma non mi sono mai scordata di te. I miei ricordi migliori sono con te. Come quando sono arrivata qui e tu sei stata la prima persona a parlarmi. Ok, abbiamo perso abbastanza tempo. Aspetti, ricordi quando pensavi che fossi malata e sei andata a scuola al posto mio e ti sei accorta che era sabato? Ragazzi, i micrafono, ora! La volta che avevi un capello orredio per non farmi sentire sola, tu ti sei rasata. Prendetela! Oh, quando me hai disegnato a ballo si è messo un vestito uguale al mio e tu l'hai rasata! Ricordi quando abbiamo saltato la scuola? No, ci sono i miei, non posso. Dammelo! Il fatto è che... sono fortunata ad averti come migliore amica e nulla al mondo potrebbe farmi scordare di te. Oh, Phoebe. Se invece ti permettessi di andartene indisturbato, così potresti commettere i tuoi piccoli crimini e io mi allenerei a fermarti. È una mossa vincente! Beh, per me, perché vinco sempre. D'accordo, sì. Accetto la sfida. Ma quando sarò io a vincere, ti sbatterò tutta la mia superiorità in faccia. Tanto non mi prenderai mai. Mi ha preso la porta. Non tu. Ero a un passo da rubare quei gioielli. Ero a un passo da liberare gli elefanti. Ho quasi rischiato di non prenderti. Scherzavo, non è vero. No, mi lancio da solo. Grazie. Ma non finisce qui! Hai visto, Phoebe? Almeno questa volta sono io che ho salvato te. Perché sei la mia super migliore amica. Grazie, Cherry. Il tuo aiuto è stato prezioso. Non lo dirò mai più. L'hai registrato, vero? Grazie, Cherry. Il tuo aiuto è stato prezioso. Un'altra suoneria per il mio cellulare. Secondo te apre anche le scatolette con quella che era? Wow! Non è stata una bella mossa. Ora non puoi più scappare da nessuna parte. Ne sei sicuro? No! Oh! No!